Chi ora penso di essere gemelli stasera? Tu gemello, il mio? E che cos'è questo magico che fa un'attrazione nelle gemelle che siamo stati con la nostra dentro la mamma di notari per nove mesi in buio, ma insieme, e questo contatto, l'unione mai cambia. Quando Barclay pensa una cosa, io penso la stessa cosa, e siamo cinque mille miglia a fuori di noi stessi. Tu sei un gemello, e questo è il titolo di questo quadro quando penso a te stasera. Io abito come un artista, tu sai, faccio quadri, ma qui c'è l'uomo dal rinascimento che l'ho fatto tanti anni fa, perché sono un uomo. Ero giovane, il tempo passa, conosco un altro giovane che mi amo, ricordi di andare a New York insieme, adesso faccio vetro, il mondo della poesia di Chiara, e faccio neanche quadro di te, quasi disegni, guarditi, Chiara, che ti amo, Chiara, la giovanota, innocente, così bella, che porta giovanenza. Ma qui è un quadro molto più sofisticato, questa era la comincia di la donna profonda. Prima era la donna, la bionda di San Vito, adesso è la madonna di Cagli. Sono avanti il cammino stanotte con la tua musica di Mozart, è bellissima, ma è una vita un po' tranquillo. Non mi voglio guardare i video e i film stanotte, io sono un uomo che va alla fabbrica ogni giorno di dipingere la poesia di Chiara, la mia bella bionda. C'è la musica, ci sono i miei quadri vecchi, adesso c'è il cammino, e sono qui e mi voglio dirti una cosa sola, bella. Sono solo, ma mai sono solo con te dentro il mio cuore, mai. Ti amo moltissimo e ti manderò questa praga a te. E dopo ci sono a scendere, andrò a letto con il caldo dell'ascendere dentro il cuore con il mio amore per te. Buonanotte, carina, e ti auguro bel concerto. Ciao, ciao.